La conferma ufficiale della Rai In una nota, il direttore generale Mario Orfeo si dice contento del positivo esito della TRATATIVA, per cui da febbraio a oggi c'è stato un vero, e proprio, C-O-R-T-E-G-G-I-A-M-E-N-T-O-O È così che Baglioni concede il BIS. Lo fa dopo che lo scorso aprile 2018, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, parlando del festival aveva detto. Siamo alle avvisaglie Però mi dicono, che il lusso ripetuto diventa un P-E-C-C-A-T-O-O. In quel caso, a proposito della popolare kermesse musicale il cantautore ha anche aggiunto. Lo farei durare due settimane, magari con rassegne a C-O-R-O-L-L-A-R-I-O-Aperte e virgolette Claudio Baglioni, a Sanremo 2019 anche come conduttore.Di domanda, punto a confermare Claudio Baglioni concede il BIS a Sanremo 2019. È lo stesso Baglioni su Facebook E ora tutti si domandano, se il direttore artistico sarà oppure no anche il conduttore ufficiale dell'evento RATI Al momento è presto per notizie ufficiali in merito, anche se risale ai primi di aprile 2018 la news, pubblicata da Il Fatto Quotidiano, secondo cui proprio Baglioni avrebbe cenato in un ristorante romano, insieme a Dorfeo, Teodoli, Faslo e ai presentatori della precedente edizione, Unseeker e Favilla. In ogni caso, in ogni caso, vedremo chi sarà il prossimo conduttore del festival ad avventurarsi sul palco della popolare carnesse trasmessa ogni anno su R-I-1. Sanremo, Baglioni come Conti.Di domanda, punto del resto? Nel concedere il BIS a Sanremo, Baglioni riporta la menta a quanto accaduto in precedenza con Conti. Ricordate? Dopo aver detto svariate volte che non avrebbe più rifatto il festival, successivamente il conduttore più nero della tv italiana Le è stato direttore artistico e presentatore ufficiale per ben tre edizioni, e tutte di successo. . 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